Ciao, sono Claudio e sono un ricercatore dell'Università di Torino. In Italia abbiamo una parola per descrivere chi arresta l'opposizione, chi nega il diritto di sciopero e chi vuole concentrare su una singola persona tutti i poteri di uno Stato. Questa parola è fascismo. E il fascismo va battuto e combattuto sempre e ovunque. Per cui forza e coraggio, bielorussi, abbattete il vostro dottatore.